Oggi faremo un unboxing dei Junkie PSX, visto che siete dei cazzo di feticisti degli unboxing, per tutti i feticisti dell'unboxing. Grazie a PlayStation per il mercatino degli affari di PlayStation Generation, ho potuto acquistare tutti i giochi, tranne Psycho Den 2, che io ho amato nel periodo PlayStation e che non ho mai posseduto in copia originale, ma sono in copia di backup purtroppo. Per mia scelta, ma perché non si trovavano Junkie PSX, cominciamo, vediamo un po', bravo il ragazzo come l'ha venduto, me l'ha incastrato ben bene, con una mano sarà Mission Impossible, aiuto ho fatto un danno, cominciamo a guardare cosa esce, Speed Freaks, Un gioco alla Mario Kart della Fancom, ma che spacca i culi, cioè se non fosse mai uscito Crash Team Racing questo era forse il top, è un pelino sotto Crash Team Racing, ma è di un pizzico proprio, Anche per via della mancanza di personaggi come quelli di Crash, per l'appunto. Questa è una perla da possedere per forza. Soul Blade, l'attuale Soul Calibur, questo è uno dei primi capitoli della serie, anzi non proprio il primo. Neg con... Questo è un controller per il picchiaduro della Namco, che prima o poi mi comprerò. Un che sul Blade per me è il top, è stato il top e rimarrà il top. Ovviamente sul Calibur 2 è il migliore della serie, però questo ha fatto storia, non c'è che dire. Con un volto in copertina poi. Shaolin, questa a molti non dirà niente, ma è un picchiaduro con sezioni di ruolistica. È fantastico, cioè praticamente tu cominci, sei un ragazzino coglioncello e diventi il più grande combattente Shaolin, oppure il più grande delinquente del gioco. È fantastico, veramente è un gioco che mi ha appassionato tantissimo. Peccato che ce l'avevo in versione americana. Infatti ora ho recuperato la palla, sicuramente, forse tra i primi CD che metterò dentro la Playstation. Tommy Macchina in Rally. A molti non dirà niente. Questa era l'alternativa a... Collie McCree. Tommy Macchina è un altro pilota di Rally, appunto quello che guida, come possiamo vedere dalla copertina, la Mitsubishi. Mitsubishi Lancer. Mentre Collie McCree guidava la Ford Focus. Questo gioco è a quanto trash, perché ha delle sequenze totalmente trash nel sistema di guida. È molto... è molto strano. È l'incrocio tra sigarelli e un Collie McCree, però con parecchi bug, parecchio sclauso. Però mi ha sempre divertito. Quindi per quello lo posseggo. Forse qualche volta ci farò qualche gameplay. Apocalypse. Questo è un must da possedere dell'Activision. Con Bruce Willis. Io ho sempre pensato che si basasse sul film l'esercito delle 12 scimmie. Perché più o meno il concetto è lo stesso. Almeno l'aspetto visivo sembra quello. Che dire di sto gioco? Sto qua è uno sparatutto, un twin stick shooter, ma nemmeno un twin stick shooter. È uno shooter button up che si sale, camuffato in 3D, da sparatutto 3D. Ma è semplicemente uno shooting up. Però era fighissimo, sia per la storia... Cioè forse le meccaniche erano molto semplici, ma la storia ti ha... Di sconfiggere le varie furie è fantastico. Cioè mi ha sempre... L'ho sempre adorato sto gioco. Mi ha sempre dato un impatto emotivo molto forte. Nonostante che non fosse un capolavoro, eh. Sia chiaro. Overblood 2. Questo vorrei un Overblood 3, cazzo. Cazzo. Cazzo, cazzo. Questa che cos'è non era sto gioco? Mentre tutti stavano dietro a Final Fantasy 7 e 8. Io stavo dietro questo gioco. Non ve lo so spiegare. Questo è una... Tu sei un coglione di softball. Di un gioco di calcio. Praticamente Final Fantasy 10 con le caratteristiche peggiori. La storia di Final Fantasy 10. Con una trama un po' più... Trash anni 90 d'azione. Però concettualmente è lo stesso personaggio che... Che è un giocatore di calcio spaziale. Che si ritrova inguaiato in varie cose. C'è la storia d'amore. La storia è essenzialmente uguale a Final Fantasy 10. Infatti mi è sempre venuto il dubbio che Final Fantasy 10 avesse copiato la storia da questo. Però ovviamente è fatta meglio Final Fantasy 10 di questo. Però questa è una piccola perla anche perché... C'era la meccanica che mi ricordo delle pistole e degli stivali. Cioè a seconda gli stivali che ti montavi potevi fare delle operazioni tipo congelare l'acqua. Riscaldare il pavimento. Congelare il pavimento. Poi sparavi elettricità. Anche con le scarpe se mi sbaglio facevi elettricità. Non mi ricordo bene perché ci ho giocato... Era molto piccolo quando ci ho giocato. Però mi ricordo che c'era delle meccaniche da paura. La grafica e i controlli erano meh. Però l'idea di gioco era bellissima. Io che... Adoro... Essendo appassionato di game design. Guardo più che la sostanza tecnica. Guardo proprio il lato dell'idea di gioco. Che poi non è mai realizzata bene. Non me ne frega un cazzo. Più o meno tutti questi giochi che vi ho fatto vedere. Le meccaniche di gioco. O l'idea di gioco. Il concept dietro. Sono fantastici. Per cui li ho adorati. Tecnicamente se non ne avete mai sentiti parlare. Perché sono effettivamente dei giochi... Mh. Un po' così. A parte sui Coden II che è un capolavoro. Che purtroppo non lo vedrete in questa... Ok. L'ultima tranche ma... Aiuto. Earth of Darkness. Non ho trovato la versione... Quella... Normale. Ma va bene comunque. Io voglio solo giocare al gioco. Vi giuro che non lo trovo da nessuna parte sto cazzo di gioco. Non si trova più. Solo emulato. Ma a me emularlo mi rompe il cazzo. Ho visto mille gameplay però... Stavolta lo voglio giocare io. Non ne ho fatto un cazzo. L'ho sempre desiderato da questo bambino. Ho sempre visto in vendita 10 euro ma non so perché non l'ho mai voluto comprare. Un run and gun di controcazze è questo. Altro che Cuphead. Cool Brothers 2. Per me è l'apoteosi dei giochi di snowboard per PlayStation. Cioè dopo di questo il nulla più totale. Questo è fatto dalla Web System. Guardate che bello. Cazzo per me è il top. Anche le meccaniche arcade sono fatte benissimo. Poi non si sa perché quegli stronzi di Deck Nine hanno preso in mano il progetto. Hanno sfornato quelle merde di Cool Brothers 3 e Cool Brothers 4. Come potete vedere Idol Minds. Idol Minds sono attualmente i Deck Nine. Che è la loro abitudine sempre a prendere stereo altrui e tramutare. Ultimamente hanno preso Life is Strange in mano. Chissà. Come è venuto con Life is Strange nuovo. Comunque questo Cool Brothers 4 è una cacata colossale. È una cacata colossale. Mentre Cool Brothers 2 rimane il capolavoro assoluto. È l'ultimo gioco. Il Final Fantasy che forse dai giochi della Playstation mi piace di meno. Però che ho voluto possedere in copia originale. Perché comunque è il suo perché era più semplificato. A me non mi ha mai colpito più di tanto questo. Tu dici perché l'hai comprato? Perché è davvero. Io ho sia il 7 che ora non ve li mostro. Ho sia il 7 che l'8. Mi andavo di possederli tutte e tre per completezza. Però io sono un fan accanito dell'8. Il 7 mi piacciono più le meccaniche di gioco che la storia. Perché la storia non ho ancora capito un cazzo. Anche se ho visto i gameplay del 7 non ho ancora capito un cazzo. Questa la storia è noiosissima. Io sono arrivato... Lo abbandonai nel punto in cui bisogna andare nella città. Dove comincia tutta la storia. Però se il gioco dura parecchie ore finché arriva la parte clum. Mi fa cadere le braccia. Chissà se lo riprenderò mai in mano. Chissà. E niente. Per voi feticisti questo era il mio unboxing. Dei miei acquisti del marchettino di PlayStation Generation. Spero vi sia piaciuto. E... Ciò un po' guamba. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Al prossima. Alla prossima. Alla prossima.